La notizia del malore accusato da Vittorio Cecchigori, proprio nel giorno di Natale, ha scosso il nostro paese. Il noto produttore cinematografico è stato ricoverato in gravi condizioni al Policlinico Gemelli dopo un arresto cardiaco avvenuto in seguito a un'ischemia celebrale. Tra chi ha voluto mandargli un messaggio c'è il giornalista Roberto Renga che su Twitter ha ricordato un episodio che lo lega a questo personaggio. Spiega, mi dispiace che Vittorio Cecchigori stia così male. Suo padre un giorno mi telefonò al giornale e mi disse, trattamelo bene. Un bravo ragazzo, solo un po' vischero, clicca qui per il TV e per i commenti dei follower. Sicuramente gli addetti ai lavori hanno voluto stringersi attorno a Vittorio Cecchigori per provare a far sentire quanto meno il calore in un momento veramente tragico, sperando che questo possa dare una scossa a Vittorio Cecchigori. Di Matteo Fantozzi Emergono nuovi particolari in merito al malore accusato da Vittorio Cecchigori. Lo storico produttore cinematografico ed ex presidente della Fiorentina è ricoverato in rianimazione al Policlinico Gemelli di Roma in prognosi riservata. Stando a quanto riportato dalla stampa, è giunto in ospedale a causa di una ischemia cerebrale. In seguito a questa condizione si sarebbero poi verificati, come si è appreso in seguito, anche alcuni problemi cardiaci. E infatti si è parlato di un arresto cardiaco. Vittorio Cecchigori ha scritto una pagina della storia del cinema italiano, ha vinto anche Oscar con il postino, per migliore colonna sonora, e la vita è bella, miglior film straniero, colonna sonora e attore protagonista Roberto Benigni. L'ex produttore era tornato a Firenze solo alcune settimane fa. Come sto? Lei come mi vede? Aveva risposto a chi gli chiedeva come si sentisse. Bene. Infatti, sto bene, aveva affermato, mentre aspettava un po' di vecchi amici in piazza della Repubblica. Agh! Di Silvana Palazzo. Vittorio Cecchigori in ospedale. Le sue condizioni sono gravi e serie, ma stabili. Il produttore ed ex presidente della Fiorentina è ricoverato in rianimazione all'ospedale Gemelli di Roma in prognosi riservata per un problema cerebrovascolare. Stando a quanto si apprende da fonte ospitaliere, pare che sia andato in arresto cardiaco nella targa mattinata di oggi, 25 dicembre 2017. Il figlio Mario, insieme alla madre Rita Music, ex moglie del 75enne, stanno rientrando in Italia da Miami, dove si trovavano. La notizia sarebbe trapelata da ambienti vicini a Vittorio Cecchigori, mentre dalla famiglia, attraverso il proprio ufficio stampa, è arrivato l'appello al rispetto della privacy. L'ultima apparizione televisiva dell'imprenditore risale ad un mese fa, quando è stato ospite del programma Storie Verdi Rai 1. In quell'occasione aveva spiegato di soffrire un po' la solitudine. A dire la verità, sono rimasto solo. Ho fatto sempre una vita alla grande. Però non è vera la rappresentazione che danno i giornali di far vedere che uno svolazza di qua e di là, e quando all'improvviso quest'anno, dopo tanti anni, sto sentendo un po' di tristezza e avrei voglia di stare con una persona con cui trovarsi bene, aveva dichiarato Vittorio Cecchigori. Clicca qui per il video dell'intervista.